benvenuti in questa guida top 7 sund bar di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo yamaha c20 sund bar cassa la yamaha c20 sund bar è una cassa altoparlante compatta con suono surround e subwoofer integrato per bassi profondi la connettività bluetooth permette di streammare musica senza fili il suono è nitido e ricco con bassi profondi e un suono surround che riempie la stanza punteggio 78 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo yamaha yas meno 109 sund bar cassa altoparlante yamaha yas meno 109 è una sund bar di qualità eccellente il suono surround 3d e il controllo vocale alexa integrato offrono un'esperienza audio coinvolgente la connettività bluetooth per lo streaming musicale wireless rende la riproduzione della musica facile e veloce punteggio 82 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo meredo sund bar 150 w sund bar per meredo sund bar è una sund bar di qualità eccellente ha un subwoofer integrato un sistema surround per home theater e una potenza di 150 watt supporta hdmi arc cec ingresso ottico bluetooth aux e usb la sund bar ha una lunghezza di 71 centimetri ed è un'ottima scelta per chi cerca un sistema audio di qualità punteggio 78 punti quarta posizione al quarto posto non poteva mancare bose diffusore tv piccola sund bar questa sund bar bose è una soluzione di qualità per migliorare la qualità audio della tua tv la connettività bluetooth rende facile collegare dispositivi esterni mentre il design compatto e discreto si adatta a qualsiasi ambiente una scelta eccellente per chi cerca un suono ricco e profondo punteggio 82 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo bose solo 5 tv sistema un sistema audio eccezionale il suono è chiaro e potente con una buona gamma di bassi la configurazione è semplice e l'installazione è rapida ottimo per guardare film o ascoltare musica una sund bar di qualità ha un prezzo ragionevole punteggio 88 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo lg santa 40 q sund bar tv 300 w questa sund bar lg santa 40 q è una soluzione di qualità per migliorare l'audio della tua tv offre 300 watt di potenza 2.1 canali con subwoofer wireless ai sound pro bluetooth ingresso ottico hdmi in out e certificazione energy star il rivestimento in tessuto conferisce un look elegante punteggio 95 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica samsung sund bar hwb 450 zf con subwoofer la samsung sund bar hwb 450 zf è una sund bar di alta qualità con subwoofer 2.1 canali e 300 watt di potenza offre bassi profondi effetto surround e suono ottimizzato il telecomando unico rende facile il controllo della sund bar un'ottima scelta per chi cerca un audio di qualità punteggio 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace